I don't want to set the world on Buongiorno amici, oggi vado a Toronto con il treno tra pochissimo parto Tornerò comunque in questo Airbnb fra 5 giorni Tra l'altro la proprietaria di casa è gentilissima, ha una personal trainer E mi ha spiegato un po' di esercizi che non ho fatto per pecrizia Inoltre per colazione appena mi sono svegliato stavo già preparando dei toast col burro da rachidi che mi sono mangiato Direzione stazione centrale Sono molto in anticipo perché il treno parte alle 11, in questo momento sono le 9 e per arrivare in stazione ci metterò a mezz'ora Probabilmente se in stazione ci sta un Tim Hortons mi piazzerò là e farò la mia seconda colazione Merenda diciamo, considerando che poi starò in treno dalle 11 fino alle 16 Guardate che cosa intelligente, di qua c'è la metro verde e di qua c'è la metro arancione Così per fare il cambio io devo solo scendere di qua, camminare e salire di qua Ci metto un attimo, a meno che non debba cambiare direzione, allora vado al piano di sotto Ok sono alla stazione centrale, quello là, quello è il mio treno, c'è Tim Hortons, c'è molta fila ma ho tempo Limonata più wrap più pasta 6 euro, molto molto economico e il wrap era veramente molto buono Tim Hortons è una bomba, pazzesca, comunque qua i treni funzionano come in Cina Tu non aspetti al binario sotto che arrivi il treno, aspetti prima del binario, ti fanno una sorta di check-in con treno al biglietto e poi vai È fighissimo, in realtà è lentissimo, al bilancio di oggi devo aggiungere anche il treno che sono 94 euro Tanti soldi per una tratta in treno di 4 ore e in pratica le tratte sono a prezzo fisso Cioè tu puoi prenderlo anche all'ultimo momento e il prezzo è sempre lo stesso Quindi costo uguale che lo prendi due mesi fa a quello che lo prendi adesso Come sapete io sono un appassionato di treni, forse non lo sapete Mi sono appassionato lentamente con i miei viaggi ai treni perché mi piace molto spostarmi in treno È una passione che è nata forse già in Thailandia quando ho preso il treno notturno ma già gli unici viaggi che abbiamo fatto con i miei li abbiamo fatti in treno Quindi siamo andati da Roma all'Austria o da Roma in Ungheria sempre in treno Poi lo scorso anno in Cina ho preso un botto di treni, i treni cinesi sono fantastici e quindi mi sono proprio innamorato Detto ciò facciamo un po' una recensione di questo treno canadese e ho deciso di fare una recensione in base a 4 punti che ho un po' preso a caso Praticità, velocità, costo Comunque le prime cose che mi saltano all'occhio sono Uno, il wifi gratis Ti colleghi al wifi e dici il numero del treno e se hai collegato ora è gratis, è fighissimo Non puoi però vedere video su YouTube Se vuoi vedere film o video devi andare sulla loro piattaforma e vedere quelli Inoltre il sedile è grande come la business class di Italo Guardate quanto è largo È molto spazioso e anche lo spazio per le gambe è molto tanto Come ho detto prima però non è un treno economico perché l'ho pagato 140 dollari canadesi Quindi circa 90 euro, 95 euro Però in realtà c'è una versione dell'economy che costa ancora di meno che è identica a questa Però semplicemente ci sono meno biglietti e quindi finiscono prima Infatti ho preso questo biglietto qua perché erano i sauriti quelli più economici che costano 100 dollari canadesi E quindi l'equivalente di una settantina di euro Sono passate 5 ore e sto morendo di fame e fra 5 minuti arriviamo a Toronto Dove viene a prendermi il buon Davide Davide, salgo adesso? La paligia dove la metto? Dietro? Aspetta, aspetta che faccio un amore, altrimenti blocchiamo tutto Tutto ciò che riguarda le costruzioni, ristrutturazione appartamenti, manutenzione Cioè poi non sono stati 3 anni consecutivi ma sono stati 3 anni di andare e rivenire perché... Per via del visto Per via del visto, esatto Perché sono venuto un mese in vacanza per restare un po' al suolo Poi ho detto vabbè sai che c'è proviamola, tanto mi devo imparare anche la lingua Io personalmente i meno 20 di Toronto li considero quasi come i meno 5 di Roma Davide mi ospiterà nella sua dimora per queste 4 notti E lui sta al ventesimo piano qua a downtown in centro Infatti io ho accettato molto volentieri questo scroccaggio Principalmente non tanto per risparmiare perché in realtà di Airbnb spendevo 140 euro Tanto perché siamo in una posizione pazzesca Cioè io il mio Airbnb per risparmiare l'avevo preso molto molto lontano E invece qua siamo nel cuore di Toronto e soprattutto stiamo al ventesimo piano Grazie Grazie Davide Prego Aspettate sono succedendo troppe cose, troppo in fretta, non sto registrando Stiamo, mi sta portando, mi sta facendo un giro del palazzo E siamo al quarto piano e c'è la piscina in mezzo a questo Io ci voglio andare E poi invece dov'è la palestra? La palestra sta sotto, al primo piano Sta sotto E com'è che si chiama questo supermercato? L'oblo L'oblo Vabbè lo scriverò in superimpressione Eh no è gigantesco Non vorrei farlo adesso il video del supermercato Non lo farò Però lo farò prima o poi Qua in Canada un video del supermercato canadese Madonna gigantesco Ho comprato il sushi Al supermercato E ho speso 19,77 centesimi Ma ho preso un sacco di sushi Costa molto di meno qua il sushi al supermercato Il sapore era lo stesso Il piano per oggi è cenare con una bella grigliata E stasera dovremmo andare a vedere un bel panorama da un bel rooftop È un rooftop cos'è? È un rooftop Da là Da là Comunque facciamo questa recensione del treno Allora praticità È identico a tutti gli altri treni Velocità Ora scopriamo quanti chilometri ha fatto questo treno Perché se non è andato molto lento Sono 504 chilometri Infatti in 5 ore Quanto è un Roma-Milano invece? 600 chilometri È andato praticamente alla metà della velocità di un Milano-Roma E costava 70 euro solamente la tratta di andata Quindi è peggio di un treno italiano Allora Davide Quanti anni hai? 23 Si sta vergognando Entra più dentro un'incuadratura Perché sei in Canada? Principalmente per un'esperienza di vita Ma anche diciamo lavorativa Finalmente sono diciamo quasi riuscito ad avviarmi una mia piccola impresa Un po' di ristrutturazioni nel settore edilizio principalmente L'appartamento in cui sei adesso diciamo è principalmente ristrutturato L'hai ristrutturato te Il su le sta andando giù e Davide è andato a prendere dei suoi amici Che vengono oggi a mangiare la grigliata con noi Sto ricevendo troppe informazioni Ho passato il pomeriggio a parlare un po' con Davide Di come si vive qua Di un sacco di informazioni che vi darò tutte quante Ma faccio dei video strutturati Un'altra cosa volevo dire Parlando con te ci si trasforma un po' da operaio A poi ad avere un'impresa edile E' lo stesso passaggio che c'è da trasformarsi in un videomaker Ad avere una casa di produzione E il discorso è questo Tu sei un videomaker ti arrivano tante commissioni Quando diventi bravo e quando hai tante commissioni Ti puoi permettere di assumere qualcuno E quindi lentamente ti trasformi da libro professionista Da freelancer ti trasformi piano piano un imprenditore Ed è quello che stai cercando di fare te Certo Sei passato da operaio Da operaio ti spacchi dalla mattina alla sera Come fanno tutti Come quando si dice che si va a Londra a fare il lavaviatti E mi stavi dicendo C'è tanta domanda di operai qua Qua è veramente C'è un cantiere C'è un cantiere qua a Toronto Ogni due blocchi Identico a Montreal Cioè veramente stanno costruendo Nonostante tu hai tante commissioni E' difficile trovare gente che lavora Esatto Questa è la parte più difficile Trovare gli operai qualificati E poi soprattutto la monotopera E' molto molto costosa Molto costosa Basta fare pubblicità a Toronto Altrimenti sembra che stiamo lavorando per l'ente Canada Immigration Bucu temporale Perché nel mangiare mi sono dimenticato di riprendere Abbiamo mangiato in felicità A tutti quanti E' arrivato anche un altro amico suo Ci siamo abbandonati Adesso mi stanno accompagnando E in questo momento Siamo in cima Al Manulife Center Che Young è una tra le vie più lunghe Del Nord America Ragazzi siamo tornati a casa Guardate che vista pazzesca E' pazzesco Devo fare anche il bilancio finale Oggi ho speso 94 di treno Più 6 da Tim Hortons Per pranzo e sbara colazione Quindi siamo già a 100 Più sushi a pranzo E ho speso 19 euro Vi saluto qua Con questa vista magnifica Buonanotte Buonanotte Good night